Salmo 72, versetto 20. Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Zai. Quanto è bello poter finire il ciclo della nostra vita alla presenza di Dio. Nessuno di noi sa il giorno in cui verrà chiamato dal Signore e quindi qui non si tratta di età. Si tratta di essere sempre pronti. In un esame di coscienza che ognuno di noi può fare è fermarsi e dire Signore sono pronto a incontrarti. Sono rimasto fedele fino alla fine come Tu mi hai richiesto. Sto cercando di piacerti ogni giorno che trascorro su questa terra. Queste domande sono importanti perché noi come corpo non siamo immortali e questo a volte ce lo scordiamo in momenti che stiamo bene, in momenti che trascorriamo. Sembra quasi che ci sia sempre tempo per tutto. Ma oggi è il tempo dove noi possiamo esaminare e chiedere a Dio se il nostro operato è gradito ai Suoi occhi. Essere fedeli fino alla fine. Essere pronti a incontrare l'agnello. Essere fiduciosi nella speranza divina che Cristo ci ha dato. Al momento che ci ha salvato, per vivere per Lui, morire per Lui, per stare con Lui. Facciamo in modo di essere sempre pronti per il ritorno di Cristo o se i nostri occhi si chiudono. Sia che moriamo, sia che viviamo, noi siamo di Cristo. Vegliamo sulla nostra condotta. Il Signore ci benedica. Il Signore ci benedica.